Ciao a tutti amici del Corriere, io sono Babins e questo video sarà diverso dai soliti episodi di FIFA perché ieri la mia webcam ha deciso di non registrare nulla e quindi l'audio del video è andato sostanzialmente a puttane non so ancora come gestirò il tutto quindi non vi dico niente perché non lo so guardate il video, votate, commentate, iscrivetevi, passate da tutti i link in descrizione noi ci mettiamo ad un prossimo video, bella ragazzi, ciao da Babins Ciao a tutti 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 Ciao a tutti